Salve a tutti, sono Maria Luisa Russomanno, responsabile CEDAN per la Campania. Già nel precedente video abbiamo visto insieme che cos'è CEDAN e tutti i nostri servizi di CAF e patronato. Ad oggi sono qui innanzitutto per ringraziarvi per il positivo riscontro che abbiamo ricevuto come servizio di CAF e patronato dopo il precedente video. Abbiamo lavorato intensamente per voi in queste settimane per potervi essere vicini nella gestione delle domande per quanto riguarda tutti i bonus della Regione Campania. Oggi sono qui per dirvi che c'è un ulteriore bonus a disposizione degli abitanti della Regione Campania ed è un avviso pubblico per l'elecazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave. La priorità per questo tipo di bonus sarà data ai bambini con disabilità anche autistiche in età scolare. Mi scuso se ho dei fogli ma le cose da dirvi sono tante quindi non voglio dimenticare nulla. Allora per poter beneficiare di questo bonus la cosa fondamentale che dovete controllare tutti è essere in possesso di un'attestazione ISEE valida che abbia la spunta per i servizi sociosanitari. Questo è il requisito che ha dato la Regione Campania. Questo ISEE deve essere contenuto entro i 35.000 euro, non deve superare questo importo. Pertanto la prima cosa, verificate se avete un ISEE in corso di validità. Chi non è fornito può contattarci e noi provvederemo, fornendoci tutti i documenti, a potervi lavorare l'attestazione ISEE. Attenzione soltanto una cosa, visto che siamo ancora in modalità smart, potete reperire i nostri contatti, questo per tutto il territorio nazionale, dal sito www.cedan.it. Cosa fondamentale per poter beneficiare di questo bonus della Regione Campania è verificare sui singoli siti del vostro Comune di Residenza la modalità di presentazione della domanda, perché la Regione Campania ha stanziato i fondi ma ha affidato agli ambiti che si occupano delle politiche sociali la gestione delle domande e delle graduatorie. Pertanto ognuno di voi dovrà controllare sul sito del Comune di Residenza la data di scadenza e la modalità di presentazione della domanda. Se avete dubbi potete contattarci, noi cercheremo di assistervi nel miglior modo possibile. Cosa fondamentale è anche ricordare che questo bonus per le persone adulte non solo chiede l'ISE socio-sanitario ma l'equisito fondamentale è anche essere in barito civile e portatore di handicap ai sensi della legge 104. Quindi richiede entrambi i requisiti. L'altro requisito fondamentale è non essere beneficiari di nessun'altra prestazione tipo assegno di cura o home care premium o assistenza domiciliare fornita dagli ambiti territoriali. Detto questo vi voglio ricordare anche che è possibile fino al 31 luglio per chi ha una situazione economica cioè un'ISE che rientra negli 8400 euro di poter beneficiare di un bonus sociale luce, acqua e gas. Anche per questo bonus dovete visitare le pagine dei vostri Comuni di Residenza in quanto la modulistica va compilata, va allegato insieme il modello ISE in corso di validità e potete avere uno sconto sulle vostre bollette. Questo potete anche per questo telefonarci perché qualora i Comuni non hanno a disposizione il link noi vi forniremo la modulistica e poi dovrete provvedere voi alla protocollazione. Questo bonus è stato prorogato grazie al decreto Cura Italia perché la scadenza era generalmente nel mese di aprile è una prestazione che è sempre esistita soltanto dopo il decreto Cura Italia è stata prorogata al 31 luglio. Vi lascio un caloroso saluto e vi ricordo di visitare sempre il nostro sito www.cedan.it dove potete riferire tutte le notizie. Ci vedremo sicuramente per il prossimo aggiornamento perché sta per appartire anche la campagna 7.30 CEDAN. Buon proseguimento di giornata, alla prossima. Grazie per la visione!